Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un tremendo lutto ha colpito il mondo della televisione italiana. Una famosa giornalista ci ha appena lasciati. Era appena stata dimessa dall'ospedale. In quell'occasione aveva mandato un messaggio di speranza a tutti coloro che, come lei, erano stati colpiti da una grave malattia. Particolarmente toccante è il messaggio scritto in questi minuti da Barbara D'Urso, in cui si legge Aveva lavorato per diversi programmi delle reti Mediaset, come Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, tra gli altri. Ecco di chi si tratta. La giovane giornalista Mediaset aveva solo 35 anni ed è scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli riguardo la malattia. Era originaria di Cagliari. Da anni viveva a Milano. Nel 2020 aveva ricevuto un prestigioso riconoscimento. Il premio Giustolisi intitolato alla memoria di Franco Giustolisi, il più apprezzato giornalista d'inchiesta italiano. Insieme ad altri colleghi aveva ricevuto una menzione speciale per il lavoro fatto durante il periodo della pandemia. A lasciarci è Carlotta D'Essi. In queste ore sui social, tanti colleghi e tante persone comuni stanno esprimendo cordoglio, manifestando solidarietà e vicinanza alla famiglia D'Essi. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella.